Può dirci qual è la decisione del partito sulle alleanze elettorali? Te la faccio io una domanda. Per sconfiggere questo governo, che come sapete è il peggiore della nostra storia, è lecito allevarsi anche con il diavolo? E chi sarebbe il diavolo, no? No, io parlo proprio del diavolo. Del diavolo in persona, esiste, sa? Solo che questo paese di cattolici non ci ha mai creduto, ha sempre preferito dei surrogati. E comunque temo che quel signore, il demonio, sia già alleato del nostro avversario. Ma in pratica, onorevole, l'alleanza la farete o no? Il consenso, giovanotto, il consenso è una cosa seria. Non ha niente a che fare con le alleanze. L'unica alleanza possibile oggi è con la coscienza della gente.